Il complice di Giacomo Buonamico, il 24enne morto a Pallo del Colle sabato sera, mentre rapinava una stazione di servizio, ha ormai le ore contate. I carabinieri delle compagnie di Modugno e Molfetta stanno passando al setaccio il San Paolo di Bari, quartiere di residenza di entrambi. Non era il primo colpo messo a segno dai due, forse. Erano giorni, infatti, che si cercavano due giovani a bordo di uno scooter che andavano in giro per la provincia barese a rapinare supermercati e pompe di benzina. Forse gli stessi che sabato sera hanno agito nel distributore di palo dove avrebbero puntato la pistola all'addetto alla pompa, di cui la reazione del gestore della struttura che all'ennesima rapina, pare infatti che fosse la terza nel giro di poco tempo, ha estratto la pistola, legalmente detenuta, una calibro 9 e ha sparato tre colpi. Uno di questi ha colpito Buonamico al fianco. Il complice poi ha lasciato il compagno ferito vicino ad una cava poco distante dal luogo della rapina e ha chiamato il 118, che ha trasportato Buonamico in ospedale, dove è morto poco dopo. Tramite la vittima, un ragazzo di buona famiglia, pare, e tramite i suoi parenti si sta cercando di risalire al suo complice. Intanto, sul fronte delle indagini, resta da stabilire se il proiettile estratto dal cadavere e compatibile con quelli trovati all'interno della struttura. A condurre le indagini il PM Antonino Lupo, che nelle prossime ore potrebbe anche disporre l'autopsia. Nei prossimi giorni saranno invece visionati i filmati delle telecamere di videosorveglianza per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto.